Ciascun corpo persevera nel suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme, salvo che sia costretto a mutare quello stato da forze applicate ad esso. Isaac Newton, Filosofie Naturalis, Principia Matematica. Salve a tutti crononauti e bentornati su Spazi Attorcigliati. Quindi oggi siamo qui per parlare del primo principio della dinamica formulato da Newton, che è quello che va appena letto, che in soldoni può essere tradotto in un linguaggio da bar come o se una roba si sta muovendo e tu non ci applichi alcuna forza, continua a muoversi a velocità costante. E questo vale anche per il caso patologico di degli oggetti pigri che siano fermi. Se tu non ci imprimi una forza, quelli continuano a restare fermi. In poche parole, a meno di applicare una forza su un dato corpo, la sua velocità, sia essa zero o una quantità diversa da zero, poi con una certa direzione o un certo verso, non muta. Ok? Per far variare la velocità di un oggetto è necessario applicare una forza a quell'oggetto. E questa sembra una sciocchezza, spiegata così lo è, ma sottointende una specifica concezione filosofica delle nozioni di spazio e tempo. Quella tipica della filosofia di Newton, della fisica di Newton, che si è imposta non tanto perché universalmente condivisa da tempi antichi, ma perché la dinamica di Newton era particolarmente efficace nel descrivere i fenomeni della natura. E quindi è stato un po' un cavallo di troia anche per le concezioni newtoniane di spazio e tempo. Newton si immaginava spazio e tempo come due oggetti assoluti. Oggi noi sappiamo che sono un oggetto unico, dinamico e tutto il resto, ma ce lo dimentichiamo. Cerchiamo di interpretare gli annunciati di Newton, di entrare nella sua testa. Lui si immaginava il tempo e lo spazio come oggetti assoluti, dati quasi da Dio. In realtà, per Newton erano propriamente dati da Dio. Newton era molto religioso, ma anche in modo strano, c'era di mezzo l'alchimia. Newton era un personaggio un po' particolare e per certi versi esoterico, ma è stata una grande mente nella storia della fisica. E quindi cerchiamo di confrontarci col suo pensiero e capire come l'abbiamo superato oggi, stando sulle sue spalle, stando sulle spalle dei giganti, come aveva detto lui stesso. La fisica, purtroppo, è fatta così. Io sono molto meno sveglio di Newton, ma vivendo alcuni secoli dopo so un sacco di cose che Newton non sapeva. Per fortuna, ovviamente non sarei in grado di risolvere i problemi di analisi e matematica come li risolveva lui, ma tant'è, lo fa il computer. Ora, chiudiamo questo discorso. Dicevo, Newton si immaginava lo spazio e tempo come oggetti assoluti, immutabili, eterni, ok? Come delle cose definite a priori, prima dell'esistenza dei corpi. E questo in qualche modo era anche il tema su cui si attorcigliava il suo dibattito con il contemporaneo Leibniz, che invece era molto più aristotelico e si immaginava lo spazio come una relazione tra oggetti. In soldoni, la differenza tra Newton e Leibniz stava proprio nel fatto che per Newton lo spazio e il tempo esistevano prima degli oggetti che uno può decidere di buttarci dentro. Mentre per Leibniz no. Un universo vuoto per Leibniz è un universo in cui non esiste lo spazio, non c'è una nozione sensata di spazio. Mentre per Newton sì. E c'erano degli argomenti, c'è un bel dibattito, c'è un bel carteggio tra i due. Ora cerchiamo di interpretare più il secondo che il primo, ma vi giuro che un giorno entreremo nel dettaglio del dibattito tra i due con un bel video dedicato al carteggio in cui ci leggeremo anche le lettere e quindi, se non ve lo volete perdere, iscrivetevi al canale cliccando sul pulsante qui in sotto. È uno strano percorso per fare un po' di spam, ma spero abbia funzionato. Ora, spazio e tempo assoluti. Queste nozioni si portano dietro naturalmente alla nozione di sistema di riferimento inerziale. Abbiamo detto che un sistema di riferimento è un punto di vista di un osservatore dotato di righelli e cronometri rispetto a cui le velocità sono definite. Ovviamente, se una roba si muove a 10 all'ora rispetto a me, un osservatore che rispetto a me si muove a 5 all'ora la vede verso quella cosa, la vede muoversi a 15 all'ora. Un osservatore che rispetto a me si muove a 5 all'ora nella stessa direzione di quella cosa, quindi scappando da quella cosa, la vede muoversi a 5 all'ora, non a 10 all'ora. Capite? In qualche modo la velocità non è un qualcosa di assoluto. Nemmeno nella fisica di Newton, figurarsi in quella di Einstein, ma nemmeno nella fisica di Newton. Newton riconosce che la velocità è una grandezza relativa che dipende dal sistema di riferimento in cui viene misurata. Ma tra tutti i sistemi di riferimento, Newton ne riconosce una classe privilegiata, i cosiddetti sistemi inerziali. Per Newton esiste un sistema inerziale assoluto, o meglio, un sistema inerziale solidale col tempo assoluto e con lo spazio assoluto, quindi una nozione vera di inerzia, una nozione universale di inerzia, non locale come in relatività generale, e tutti gli osservatori che si muovono di velocità costante rispetto a uno qualunque di questi osservatori inerziali sono inerziali a loro volta. Quindi noi abbiamo una classe infinita di osservatori che si muovono a velocità costante rispetto a una certa struttura assoluta dello spazio e del tempo. Quindi è molto importante sottolineare che per Newton non è uno il sistema di riferimento privilegiato, ma è una classe infinita, quello degli osservatori inerziali, che è una definizione globale che dipende dalle nozioni assolute di tempo e spazio di Newton. Ciò che per Newton era inequivocabilmente l'assoluto era l'accelerazione. Quindi non è la velocità a distinguere osservatori inerziali da osservatori non inerziali, ma l'accelerazione si può dire per Newton in senso generale se qualcuno stia accelerando o meno. Ok? Un osservatore che non accelera è un osservatore inerziale, un osservatore che accelera è un osservatore non inerziale. Queste idee sono state rimasticate e digerite dalla relatività generale che ci insegna e possiamo chiamare questa cosa covarianza generale che accidenti non possono esserci osservatori privilegiati. Tutti devono essere uguali, la fisica deve essere identica in tutti i sistemi di riferimento e per capire un po' meglio questo tema vi rimando al video che vi lascio in descrizione sugli astronauti e sul perché galleggino più o meno nella stazione spaziale o perché sembrino galleggiare nella stazione spaziale internazionale. No, la ragione non è quella di un complotto internazionale in realtà loro suonano in una piscina in cui le cose vengono filmate perché mi è stata detta anche questa roba qua. Tornando a noi facciamo un breve recap e poi il video si conclude qua. Il primo principio della dinamica ci dice che solo una forza può mutare la velocità di un oggetto e questo ci apre le porte alla concezione che Newton aveva di tempo e di spazio perché distingue nitidamente ciò che accelera ovvero ciò che muta la sua velocità da ciò che non accelera ovvero ciò che conserva la sua velocità perché per Newton esiste una nozione universale di inerzia che non è tanto legata alla velocità con che un oggetto si muova ma la sua accelerazione che può essere zero o non zero. Se noi abbiamo un sistema inerziale basta pescarne uno qualunque uno che non sta accelerando aumentando introducendo una certa velocità possiamo ottenere tutti gli altri sistemi inerziali quindi tutti gli osservatori che si muovono a velocità costante rispetto a questo sistema inerziale sono inerziali ma quelli che accelerano no e quindi c'è una distinzione c'è una discriminazione che dipende dalle nozioni assolute di tempo e spazio vi ringrazio per essere arrivati fin qui vi ricordo che iscrivendovi al canale potete recuperare tutti i video e non perdervi i video dei prossimi mercoledì e che la cosa importante quando vi gettate in un buco nero è portare la testa a presto crononauti grazie a tutti i video